La giunta regionale con deliberazione numero 1813 del 5 aprile 2016 ha recepito l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome del 23 marzo 2011 che riguarda i criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica di laboratorio. Questo prevede che per il rilascio alla conferma dell'accreditamento dei laboratori debba essere garantita la soglia minima di attività di 200.000 esami di laboratori all'anno. Sulla questione interviene Daniela Forma, consigliere regionale del PD, che in una nota manifesta la propria preoccupazione che insieme ad altri consiglieri regionali del suo partito ha depositato una interrogazione. Il nuovo modello organizzativo, sottolinea l'esponente del PD, risulta assolutamente fuori misura rispetto all'attività attualmente svolta dai nostri laboratori accreditati e rischia di compromettere l'intero sistema. Secondo la Forma, l'obiettivo della giunta regionale sarebbe quello di obbligare i laboratori ad aggregarsi e organizzarsi in rete costituendo nuovi soggetti giuridici, una decisione che potrebbe invece tradursi in un'emplosione del sistema. Da qui la presentazione delle interrogazioni, in cui i consiglieri di maggioranza chiedono tra l'altro se prima di adottare la deliberazione l'aggiunta abbia fatto una ricognizione puntuale dei laboratori privati attualmente accreditati e del numero di prestazioni annue da loro effettuate, questo al fine di comprendere quali ricadute derivassero dal recepimento dell'accordo nazionale.